Grazie a tutti. 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 Ok. Aspetta, aspetta. Bomba di canna. Non l'abbassare troppo qua che stiamo per là. Ok. Aspetta, aspetta. Ehi, questo è grosso. Ho visto la barca. Madonna. Madonna. Oh la doppietta. Oh, la doppietta. Oh, la doppietta. Oh, la doppietta. Yeah. e siamo a 2 e abbiamo pure le mancianze guarda qua sono, guarda come stanno parlando vedi 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 mamma mia quanto pesce guarda, guarda, guarda sotto sti gaga guarda, guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda